In un giorno senza tempo, un pescatore prossimo a ritiro e uno scrittore francese affamato di storie si incontrano per caso sulle rive del golfo di Taranto. Nonostante le abissali differenze, tra i due si stabilisce un'inconsueta amicizia sulle ali dei racconti che il primo narra all'altro. Si tratta di oscure fiabe ormai dimenticate, entro le quali si cellano creature ancestrali e tenebrose, saldamente radicate nella terra di Puglia e in perenne lotta con l'uomo. Ognuna di esse mette in luce episodi e personaggi smarriti nel flusso implacabile della storia, fino ad approdare a una sconvolgente rivelazione. Storie di tenebre nella storia di Puglia, un romanzo di Mariano Rizzo. Storie di Terenceton Storie di Tengah